Come nelle cordate in montagna in cui ci si sostiene l'un l'altro fino alla vetta, la SAT, il Soccorso Alpino del Trentino e il Trento Film Festival si uniscono in una cordata di intenti e azioni. Un patto di collaborazione per celebrare un anno di importanti anniversari per le tre storiche associazioni trentine, i 150 anni degli alpinisti e i 70 di Soccorritori e Trento Film Festival. La nostra convinzione è che senza collaborazione al giorno d'oggi nessuno di noi sarà capace di sostenere il divenire perché è ricco di incognite, probabilmente anche di difficoltà. Prima la pandemia, poi il carovita e infine le incertezze legate alla guerra in Ucraina costringono gli attori dell'economia di montagna a ripensare e adattare il loro modo di operare ai grandi cambiamenti in corso. Uno degli obiettivi che ho proprio discusso ieri all'interno del nostro direttivo è aumentare la nostra preparazione anche dal punto di vista medico-sanitario perché ogni operatore possa compiere gli interventi anche in maniera sicura dal punto di vista sanitario. Il sodalizio tra le tre associazioni si compirà con una serie di eventi organizzati in comune lungo il corso dell'anno. Primo appuntamento il 5 maggio al Teatro Sociale di Trento con una serata dedicata a Scipio Stenico, visionario fondatore del soccorso alpino e speleologico del Trentino. A condurre l'evento l'alpinista e scrittore Hervé Barmas. Tutti e tre lavorano a loro modo per diffondere la conoscenza dell'ambiente della montagna e noi crediamo che difendere la conoscenza significa aumentare la consapevolezza e solo se sei consapevole sai apprezzare e rispettare perché la montagna è certamente libertà ma soprattutto anche rispetto delle regole e rispetto dell'ambiente.